Tutto pronto per la Coppa Italia di seconda categoria. Questo weekend scenderanno in campo le compagini irpine impegnate nel torneo provinciale. Sei i gironi che vedranno impegnate le formazioni di casa nostra pronte a darsi battaglia prima dell'avvio del campionato previsto per domenica prossima. Diverse le società ambiziose tra cui il mercogliano del bomber di Somma, l'Atletic Grottolella di Guerriero e il Real Avellino. Sabato e domenica iniziano le prove generali per i club di casa nostra in attesa del campionato che prenderà inizio il 22 ottobre. Le prime compagini a scendere in campo saranno la Savignanese contro il Panni mentre il Venticano aspetta il Cassa e Franci, Montemarano Manacoalzati e Contrata Real San Felice le altre partite in programma sabato. Il mercogliano sfida Domicella domenica mentre l'Atletic Grottolella aspetta il pago per un remake dei playoff dello scorso anno dove giallo-blu si imposero per 3 a 1.